Una sontuosa nave da crociera, un'amante vendicativa, il suo capo e il suo amore non corrisposto. Un animatore imbranato pronto a semirare il panico tra i passeggeri e a fare del bene intorno a sé e perdutamente innamorato della bella Margherita. Comandante della nave. Ricerca dell'amore e personaggi genuini in un film leggero che mescola picchi di comicità, commedia degli equivoci e una verità di fondo. Una persona felice può farne felici tante altre. Dal 15 giugno è al cinema Benvenuto a Bordo, l'ultimo film di Eric Levin con Frank Dubosc, Valéry Lemercier, Luisa Ranieri, Gérard Darmont, Lionel Astier.